Fotoberg a Villa di Serio ospiterà l'Open Day Sposi che si terrà domenica 27 gennaio a partire dalle ore 15. Una cosa un po' particolare, di cosa si tratta? Sono cinque aziende del settore che hanno deciso di unire le loro forze per offrire alle giovani coppie che devono sposarsi la possibilità di vedere e toccare con mano le produzioni che siamo in grado di fare, sicuramente venendo anche incontro a quelle che sono le necessità economiche che ci sono oggi per riuscire a coronare il giorno più bello della loro vita nel miglior modo possibile. Quindi garantire la qualità al di là appunto del periodo poco felice che stiamo attraversando avremo un po' di tutto dalla comunicazione alla fotografia ai fiori al vestito alla parrucchiera quindi insomma si potrà davvero trovare di tutto per far sì che sia il giorno perfetto. Sicuramente, l'obiettivo che ci diamo è che sia in assoluto il giorno perfetto, ci sono tutti i principali fornitori di questa giornata quindi ci sarà un fotografo, ci sarà chi si occupa del video, ci sarà chi si occupa degli abiti, chi del parrucco e quindi avremo i fiori, gli allestimenti in modo da ci mettiamo assieme, lavoriamo assieme, l'idea è proprio quella di riuscire a lavorare assieme perché sia tutto omogeneo in maniera tale che non ci sia poi un vestito che non ha nulla a che vedere con l'addobro floreale o il fotografo che non riprende correttamente la giornata ma riuscire a servire la coppia, le coppie di sposi che verranno a trovarci nella maniera più uniforme possibile. In chiusura ricordiamo e precisiamo dove siamo quindi per chi vorrà venire dove si trova Fotoberg. Fotoberg si trova a Villa di Sergio, ha uno studio fotografico in Villa di Sergio, l'indirizzo è Via Cortesi al numero 1, siamo di fronte al parco del Sergio, facilissimi da trovare, ci saranno poi tutte le indicazioni stradali che ci permetteranno di raggiungerci facilmente.